Sant'Elia, Sant'Efrem, Melville, 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 la fumata è bianca. Dear brothers and sisters, abemus papam, ac reverendissimum. I cardinali sono disponibili a chiedere il sostegno della psicoanalisi, nonostante il naturale scetticismo che lei senz'altro immaginerà. Immagino sì, senta immagino che io non possa chiedere... Assolutamente no. Immaginavo che di sesso non si poteva un accinno alla mamma. Con molta discrezione. Senta, ha problemi con la fede. Qualcuno ha chiesto al dottore se è credente? Ma dove siete? Un miliardo di persone vi sta aspettando. Quindi lei lavora? No, no. E che lavoro fa? Cosa faccio? Sì. Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio?